Entrando in Black Mirror avrete subito la sensazione di trovarvi in un ambiente asettico e apparentemente privo di significato. Nox Escape ha reso l'ambiente volutamente insensato per disorientare i giocatori sin da subito. Spetterà a voi percepire il reale significato di questa stanza e della storia che custodisce al suo interno. Questa esperienza è un concept di prima generazione e ricalca fedelmente le linee delle più classiche escape room. È caratterizzata da una scenografia assolutamente priva di fronzoli, da diversi lucchetti e moltissimi enigmi. Questi ultimi sono multisequenziali, di pregevole fatture e ricchi di ingegnosità. Cataloghiamo questa stanza fra le più complesse di Roma. Giocare al suo interno rappresenterà una sfida super stimolante per gruppi esperti, anche se il pericolo frustrazione può nascondersi dietro l'angolo. I 60 minuti a disposizione potrebbero risultare non sufficienti. Segnaliamo questa stanza ai veri puristi dell'escape room. È meno indicata per chi è abituato a lasciarsi ammaliare da scenografie importanti.